Di interesse culturale anche per questo. La relazione con cui la sovrintendenza riconosce il valore della pista di Bob di Cortina e la necessità di preservarne l'assetto cita anche l'inseguimento di Solo per i tuoi occhi, film della saga di James Bond in cui sono riconoscibili molti elementi distintivi di Cortina. Nel testo viene riconosciuto il valore iconico nel contesto nazionale e internazionale quale patrimonio identitario in questo brano di territorio, nonché per i rapporti relazionali che la pista è intessuto e ancora mantiene con le altre fondanti infrastrutture olimpiche. Conclusione, il tracciato è meritevole di essere preservato e valorizzato nell'assetto dell'impianto storico nel quale sono ancora leggibili le caratteristiche altimetriche e morfologiche del sedime primigenio, nonché quelle peculiarità testimoniali identitarie attraverso le quali l'impianto sportivo si delinea. Fatto curioso, evidenzia il gruppo consigliare di minoranza Cortina Benecomune, che ancora prima di apporre il vincolo, il 14 settembre, la stessa commissione ha autorizzato la demolizione parziale del bene oggetto di tutela, quale sia la logica che tiene assieme i due provvedimenti non è dato di sapere. Grazie a tutti.